4 nuove linee bus per il trasporto delle persone con disabilità. Grazie a questi nuovi interventi sale a 21 il numero delle tratte dove è garantita la presenza di bus dotati di pedane per la salita e la discesa dei passeggeri con difficoltà motorie. La giunta capitolina ha approvato la delibera per la riqualificazione del comprensorio Santa Maria della Pietà che culminerà in un progetto urbano unitario. L'obiettivo è la valorizzazione di questo luogo attraverso lo sviluppo della sua vocazione socio-culturale grazie ad interventi di restauro e risanamento conservativo. Continua il lavoro di ripristino delle panchine nei parchi di Roma. Fino ad oggi sono state restituite circa 150 sedute. La maggior parte delle 20.000 nuove assi che servono per eseguire i lavori e che sono state già acquistate arriveranno dopo l'estate. Gli operatori del servizio giardini sono all'opera già dal mese di maggio. Grazie a tutti.